Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dei migliori zaini da trail running economici, ovvero sotto i 100 euro. Vedremo zaini da trail running un po' per tutti gli usi, ma iniziamo subito col video così ve li racconto. Iniziamo dal modello più piccolo di quelli che vi propongo, ovvero questo Camelback Trail Run Best da 7 litri. Zainetto molto molto leggero, parliamo di soli 160 grammi. Viene fornito con in dotazione due soft flask di Camelback, è uno zainetto veramente super per quanto riguarda gli allenamenti. Se state cercando uno zainetto da allenamento con il quale portare via poca roba, andare leggeri, andare con un zainetto che fa anche traspirare tanto, questo è veramente il migliore. Per quanto riguarda la parte anteriore troviamo le classiche tasche per le soft flask. Due belle tasche grosse nella parte bassa per mettere tutte le barrette di cui abbiamo bisogno e anche una tasca chiusa da cerniera per il telefono. Nella parte posteriore non troviamo una tasca vera e propria chiusa, ma troviamo la tasca principale che è chiusa solamente da un piccolo cordino nella parte superiore. Quindi attenti a quello che ci mettete dentro perché la roba può tendere a saltare fuori. E sempre nella parte posteriore troviamo anche una zip da chiudere, molto piccola, in cui però possiamo riporre ad esempio le chiavi di casa. Zaino unisex molto fermo, non balla perché ha i cordini laterali che possiamo andare a tirare e davvero per quanto riguarda la traspirabilità è veramente super traspirante. Ottimo mesh, ma in generale poi è anche uno zaino piccolo, quindi occupa poco spazio sulla schiena. Il secondo modello di cui parliamo è questo Deuter Aschender 7 litri, un pochino più pesante rispetto al camembert che abbiamo visto prima, ma perché ha una struttura diversa. Ha una parte anteriore veramente molto studiata, molto ben progettata, con le classiche tasche per i soft flask, diverse tasche per barrette, gel, eccetera, e soprattutto possiamo riporre nella parte anteriore anche i nostri bastoncini, quindi molto semplici anche da riporre e riutilizzare. Nella parte posteriore invece troviamo una bella tasca chiusa da zip in cui possiamo andare a riporre davvero tutto il necessario per i nostri trail. Ed anche lui molto molto traspirante e anche molto fermo grazie a tutti i cordini messi sulla parte laterale che possiamo utilizzarli per regolarli in base alla grandezza del nostro busto. Ma per cosa ve lo consiglio invece questo Deuter Aschender? Secondo me è ideale per gare fino a 50 km. Se il camelback ve lo consigliavo soprattutto per allenamenti, questo è ottimo sia per allenamenti ma anche e soprattutto per le gare. Davvero io l'ho utilizzato in una gara fatta verso marzo e mi ce l'ho trovato veramente super super bene. Quindi lui davvero consigliato per gare abbastanza corte in cui il maternale obbligatorio non è troppo. Il terzo modello di cui parliamo è questo Salomon Actis Kivn 8. Viene dato in dotazione con due soft flasks di Salomon che possiamo riporre nelle tasche poste nella parte anteriore. Nella parte anteriore troviamo anche due comode tasche molto elasticizzate e molto grosse per già le barrette. E una tasca chiusa da zip invece per riporre il telefono. La cosa che più mi era piaciuta di questo Salomon è che praticamente noi possiamo utilizzarlo per diversi usi. Nella parte posteriore troviamo infatti dei cordini che stringendoli vanno a chiudere tutta la sacca posteriore e lo rendono utilizzabile sia da gare molto veloci, 20-30 km, fino ad arrivare a gare anche da 100 km. Io l'ho utilizzato l'anno scorso in una gara da 70-80 km e mi ce l'ho trovato veramente molto bene. Come vi dicevo parte posteriore sacca chiusa da zip, ci sa davvero tanto materiale ma soprattutto ottima traspirabilità e anche lui balla pochissimo. Probabilmente tra i tre è quello più stabile. Infine arriviamo al modello Decathlon A Vadict Trail da 10 litri. Questo è lo zaino più grosso che vi propongo e soprattutto è quello anche pensato per fare delle gare di ultra. Per intenderci con questo zaino possiamo fare anche delle gare fino a 160 km senza tanti problemi. Questo perché nella parte anteriore troviamo davvero tantissime tasche dove poter riporre tutti gli oggetti tra le soft flasche, il telefono, le barrette, le tasche anche laterali che aggiungono ancora maggior capienza per portare tutti gli oggetti. È veramente uno zaino super. Nella parte posteriore troviamo invece una tasca chiusa da zip dove riporre tutto il materiale obbligatorio e nella parte bassa anche una tasca a reti dove riporre o i bastoncini oppure magari una giacca impermeabile dopo averla utilizzata. Zaino molto stabile anche lui. Ha un'ottima traspirabilità ma davvero quello che mi ha convinto di più è la capienza di questo zaino perché è 10 litri ma veramente ci permette di fare gare che possono essere anche delle 100 miglia. Quindi molto consigliato anche lui. Arriviamo dunque alle conclusioni. Vediamo i prezzi per questi quattro zaini. Praticamente costano tutti lo stesso prezzo. 70 euro. C'è chi costa magari 69 come questo di Decathlon. C'è chi costa 72, 73 come Salomon. Però siamo lì. Fate attenzione per quanto riguarda il camelback perché è appena uscito lo si trova sugli 80 euro ma il prezzo sta scendendo e tra poco arriverà probabilmente a 70. Diciamo che comunque hanno tutti e quattro lo stesso prezzo. Quindi ragazzi sta a voi decidere quale acquistare in base un po' a cosa preferite e soprattutto all'uso che dovrete farne. Detto ciò io ragazzi spero di essere stato esauramente sostivo anche per questo video. Vi ringrazio per l'ho guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!